Tra pochi minuti il Forum si riempirà per accogliere gara 2 della semifinale pre-off tra Armani Gins e Dinamo Sassari. Coach, innanzitutto ti chiedo, dopo gara 1 c'è la consapevolezza di poter mettere in difficoltà questa Milano? Beh sì, sicuramente l'avevamo già vista, a parte la Coppa Italia anche a partita del regular season. È logico che noi dobbiamo cercare di fare più canestro perché poi la partita si è un po' decisiva nel quarto quarto, noi abbiamo tirato molto male e lì bisogna essere arrivati un pochettino più freschi, più lucidi a fare più canestro nelle occasioni che ci sono presentate, però la dimostrazione è questa. Una stagione straordinaria quella di Sassari che speriamo possa durare ancora a lungo, però con la Coppa Italia, con magari anche la qualificazione all'Eurolega, sarebbe davvero qualcosa di incredibile per questa società, ripensando alla situazione di 5-6 anni fa, no? Beh, sicuramente penso che sia cresciuta sia la squadra, la parte tecnica, sia la parte societaria e questa qui è stata una cosa importante, è stato un processo di crescita, man mano non accontentandosi di questo. Adesso siamo arrivati più che altro alla ribalta con dei buoni risultati, però dobbiamo sempre ricordarci che siamo Sassari e dobbiamo sempre avere le ambizioni perché è giusto che quando uno abbia fatto sport, faccia sport, debba avere delle ambizioni, ma sapere stare con i piedi per terra, di non essere diventati nel giro di 2-3 anni, chissà, una realtà diversa da quella che siamo. Noi siamo molto legati sicuramente alla Sardegna perché abbiamo avuto una risposta importante non solo da Sassari ma da tutta la Sardegna, adesso girando anche l'Europa abbiamo visto che molti sardi ci seguono con molta passione, perciò questa è un'identità molto forte per una squadra come la nostra. Forse questo è il risultato più bello, no? All'idea di quello che arriva dal campo, però insomma la filosofia e il fatto che davvero rappresentiate un'intera regione, non solo sulla carta ma anche nei fatti, penso che sia la vittoria più bella che abbiate ottenute in questi anni. Beh, sicuramente un po' i risultati ce ne hanno aiutato, però la cosa importante è che molta gente che prima non seguiva la palla canestro, davanti a questa arriva e dice sai io non seguo la palla canestro ma siamo contenti perché si parla di noi anche fuori, perciò in un momento in cui sappiamo come va l'economia e ci sono questi problemi, un po' di identità e un po' di affacciamento personale è una cosa importante, perciò noi siamo contenti, è logico che i risultati ci hanno dato una mano, però anche probabilmente il nostro modo di essere, di proporci è stato un'altra parte importante. Diamo con la battuta vero che ti vogliono candidare il sindaco di Sastre o di Aguero? No, io niente, non ce l'ho, non sono mentalmente pronto politicamente a fare dei discorsi politici, non è nel mio DNA, non sono mai stato una persona politica sotto questo aspetto, ognuno deve fare il suo lavoro. Però mi hanno detto che hai anche una bella discesa di campo dove coltivi l'orto, insomma oltre alla palla canestro ti diletti a Aguero? Beh sicuramente questo è stato un po' preso a casa lì e allora ho un po' di terra, un po' mi piace, l'ho sempre fatto anche quando ero a Varese e tutto, è un po' che mi aiuta per il piacere e per il relax, probabilmente in un'altra vita ero un contadino. Paolo la facciamo in dialetto solano o in dialetto sardo questa intervista oramai? Beh ormai guardo sempre anche VCO con lo streaming, con i siti web, ormai si può essere in contatto con tutti, quindi rimango in contatto con il mio dialetto solano e seguo tutte le notizie per quanto riguarda la mia città e i miei posti e poi ovviamente devo essere anche ormai preparato sul dialetto sardo perché altrimenti si arrabbiano, sono persone molto diffidenti all'inizio ma poi ti danno tutto e quindi sono veramente belle persone. Te l'aspettavi quando hai cominciato ad allenare di arrivare qui, in questo tempio della palacanestro italiana, tra poco ci saranno 11.000 spettatori, insomma di strada ne hai fatta parecchia? No, è stato bellissimo perché l'aneddoto è quello di aver visto la prima partita, l'inaugurazione al Forum, qui mi ricordo ancora 102-90 contro Pesaro perché a me piaceva tantissimo Antonello Riva, io ero tifosissimo dell'Olimpia e venivamo da Domodossola per vedere le partite, abbiamo visto proprio l'inaugurazione del Forum con la prima partita qua e quindi pensare di giocarmi una semifinale Scudetto contro l'Armani di adesso è veramente una sensazione bellissima, una grande emozione che avevamo vissuto in Coppa Italia dove è stato veramente bello, però è tanta roba, è una grande emozione veramente da dove siamo partiti arrivare qua. Dal punto di vista tecnico, insomma, tanti dicono Davide contro Golia ma era Davide contro Golia anche nei quarti di finale tra Milano e Pistoria, Pistoria insomma quasi fa lo scherzetto all'Armani, voi l'avete già fatto in Coppa, è vero Davide contro Golia però avete le carte e le possibilità di metterle in difficoltà l'abbiamo prima detto con me. Guarda, paradossalmente forse psicologicamente loro si sono sbloccati avendo visto la paura già in gara 5 contro Pistoia e quindi non hanno vinto 3-0 facile, sono arrivati tra virgolette un po' rilassati alla serie, avevano già visto la loro paura e l'hanno superata e hanno fatto una buonissima partita contro noi in gara 1, noi altrettanto è ovvio che noi per vincere contro di loro ce la giochiamo come hai detto tu, però dobbiamo sperare che loro facciano qualcosina in meno soprattutto nel tiro da 3 punti e noi essere pronti negli ultimi 5 minuti arrivare punto a punto perché poi la pressione a quel punto va tutta su di loro. Ti aspettavi anche questa consacrazione incredibile da parte di Drake che era arrivato giovane a Castelletto con quel fermo da un anno per il morbo per la martia che aveva, adesso un miglior giocatore della Lega anche in gara 1, grande partita, insomma un ragazzo che un po' come te ne ha fatta di strada Guarda è un ragazzo per due motivi, io con l'ex nostro general manager di Castelletto va circa il primo giorno che arrivò in Italia, lo portammo a Varese perché per vederseli davano l'idoneità per poter giocare in Europa e quello è stato forse uno dei suoi più bei giorni della sua vita e lui ha visto in faccia la morte, sa cosa significa ed è un ragazzo che ha qualcosa di speciale dentro è un marins dal punto di vista dell'allenamento ed è un ragazzo come ti dicevo che dal punto di vista umano ha qualcosa in più degli altri proprio per aver vissuto questa situazione ha fatto tantissima strada e penso che sia arrivata la consacrazione con il miglior giocatore del campionato veramente se lo merita come persona e come giocatore Cosa significerebbe per te e per Sassari fare l'Eurolega il prossimo anno? È una cosa che sarebbe strepitosa perché noi lo tocchiamo con mano in tutte le trasferte girando tutta la Sardegna, noi siamo veramente la squadra dell'isola la squadra che rappresenta una regione intera anche quando siamo in giro ovunque all'estero ma anche qui a Milano dove vengono tantissimi nostri tifosi per loro è davvero un motivo di riscatto, di orgoglio avere una squadra a questi livelli perché loro da un lato si sentono un po' penalizzati essendo sull'isola ma dall'altro lato hanno questo orgoglio di essere appartenere a questo popolo come lo chiamano loro giustamente, di avere questa fortissima identità è davvero una grossa responsabilità ma è anche un grosso onore Questo binomio Sacchetti-C3D per quanto andrà avanti ancora? In teoria sulla carta legalmente fino al 2018 se non ci cacciano abbiamo un contratto ancora molto lungo è diventato proprio un rapporto in cui in questo momento c'è una serenità c'è una capacità di capirsi e di relazionarsi che è davvero di altissimo livello è ovvio che tutti mi chiedono un giorno se vorresti allenare Omenia, Burlotto non mi ha ancora chiamato per portare Omenia in gold e quindi per la prima volta che Omenia ha di portarla in un campionato professionistico adesso non lo è più però la seconda serie mi aspettavo sicuramente una chiamata però a parte gli scherzi è davvero una cosa che dal punto di vista professionistico penso che fare l'Europa, il campionato ai massimi livelli sia ancora un bagaglio tecnico talmente alto di esperienza che puoi accumulare e che per allenare c'è tempo Anche perché poi non è facile in questi momenti trovare società serie e questa è una società seria Sì, andare a fare il capo allenatore, ripeto, in un posto magari dove non sai dove non ci sono progetti, dove vivi anno per anno avere una società che ti fa un contratto di 5 anni fino al 2018 ai tempi di oggi è qualcosa che va al di fuori di ogni concezione con me, ripeto, è un discorso che ormai esula da qualsiasi discorso tecnico, umano è troppo importante a livello di staff avere una chimica ma penso dappertutto perché quando tu vai nella stessa direzione poi anche con tantissimi giocatori, tantissime nazionalità arriva ad essere veramente fondamentale avere un'unica direzione un unico modo di vedere le cose Ti è mai mancato Domodossolo in questi anni? Domodossolo la mantengo sempre nel mio cuore l'abbiamo portata quasi fino alle finali playoff di C2 poi siamo stati ripescati, quindi eravamo arrivati in C1 io sono orgoglioso che loro abbiano continuato e siano rimasti in un campionato nazionale cosa che, ripeto, come abbiamo detto prima è davvero difficile in questo momento fare pallacanestro ovunque hanno un presidente che secondo me ha grande passione e anche competenza per poter fare una bella squadra so che quest'anno hanno avuto molti infortuni li ho seguiti, però sicuramente avere la pallacanestro di buon livello Domodossola mi inorgoglisce perché avevamo cominciato in due persone in uno stanzino, in promozione per portare Domodossola almeno in un campionato nazionale e vederla che continua a giocare lì fa davvero piacere Qualche sogno l'hai già realizzato a no personale perché vincere la Coppa Italia qui al Forum raggiungere la semifinale sognare addirittura l'Eurolega ce n'è uno a breve scadenza magari anche dal punto di vista personale, Paolo? No, dal punto di vista fare l'Eurolega penso che sia un grandissimo sogno come vincere il campionato tra virgolette con una provinciale come siamo noi che davvero è un sogno che ogni anno, da quando siamo e questo è il quarto anno siamo partiti da neopromossi siamo sempre arrivati più in alto e quindi un segno di grandissima continuità e il sogno dell'Eurolega è davvero stupendo mi piacerebbe un giorno se devo dire la verità anche se nessuno è mai stato profeta in patria portare una squadra io ho parlato prima di Omenia ma di Domodossola di portare una squadra della mia provincia della mia zona della mia terra in un campionato che conta quello sarebbe veramente una soddisfazione per la gente dei miei posti della mia terra ecco, quello sarebbe bello Se si vince brindico il prunetto con il mirto? no, con il vermentino di Gallura alto livello ok, grazie Paolo e in bocca al lupo in bocca al lupo a voi un saluto a tutti e ovviamente io vi seguo sempre perché ripeto con le tecnologie di adesso azzurratv.info giusto? www.tuttonotizie.info bravo www.tuttonotizie.info io vi seguo in streaming posso vedere le puntate di sport dilettanti per dire sportivamente azzurra sport i telegiornali ormai si può seguire anche dalla Sardegna e ci sono tanti che seguono perché ci sono tanti migrati ossolani o comunque della nostra regione in giro anche in Sardegna quindi un saluto a tutti e a presto forza Dinamo forza Dinamo sempre grazie a tutti grazie a tutti